In momento l'unica figura commissariale sugli scomparsi ce l'abbiamo noi nel nostro paese. Ma come abbiamo visto scomparire, far perdere le tracce, può essere anche, anzi spesso, è un fenomeno trasnazionale. In questo senso che cosa potremmo fare, le chiedo? Sì, sicuramente è un aspetto molto importante perché naturalmente la scomparsa non ha confini territoriali come dimostrano casi anche di ritrovamenti. Per cui esiste già una rete comunque a livello di polizia, a livello di Interpol, a livello di Europol come cooperazione di polizia che consente di estendere l'ambito delle ricerche. Esistono dei portali dove vengono inseriti i dati relativi alle persone scomparse, vengono inserite anche le foto. Quindi c'è un apparato che consente questa collaborazione internazionale. Naturalmente non c'è negli altri paesi un sistema in qualche modo analogo a quello italiano che è strutturato sostanzialmente su una figura di coordinamento per cercare di avvicinare e quindi di agevolare l'attività di tutte le amministrazioni interessate e fare in modo che l'attività di ricerca, soprattutto immediata, grazie alla presenza, al punto di riferimento che sono le prefetture sul territorio che quindi coordinano tutte le attività per quanto riguarda le scomparse. Questo è un sistema, grazie alla legge del 2012, che caratterizza il sistema strutturato in Italia che può essere sicuramente mutuato e può essere esteso anche in altri contesti per agevolare. Quell'agevolazione che noi riusciamo ad avere in Italia può essere sicuramente estesa anche a livello europeo con dei meccanismi, con delle strutture che consentono una interlocuzione ancora più efficace, soprattutto anche sul campo della strategia delle misure di prevenzione, cioè perché spessissimo, prima giustamente si accennava al discorso degli anziani che si allontanano dagli ospedali, ecco lì un altro aspetto importante è quello della prevenzione, cioè fare in modo che attraverso misure specifiche possa essere evitato l'allontanamento dagli ospedali. Ma ad esempio quali? Perché come si fa a limitare poi la libertà delle persone, degli anziani, ma anche dei malati psichici che, lo ricordiamo, possono entrare e uscire liberamente poi dagli ospedali? Sì, le misure di controllo è ovvio che si può entrare e si può uscire, però sicuramente ci possono essere delle misure che possono in qualche modo consentire di evitare un allontanamento che possa essere allarmato. Io mi riferivo anche e soprattutto per quanto riguarda le persone anziane con deficit cognitivi anche alla tecnologia, a quello che oggi la tecnologia ci può dare e quindi a quei meccanismi di localizzazione che oggi possiamo avere anche oggi con la nuova tecnologia, basta avere anche un telefonino che consente di fare questo, ma adesso la tecnologia si è sviluppata ulteriormente, quindi dare l'informazione, quindi non solo, naturalmente non costringere nessuno, però informare le famiglie, le strutture. Come? Come si bypassa il tema della privacy che sicuramente incide anche su questo? Sì, sostanzialmente nel momento in cui c'è la localizzazione, c'è la possibilità di avere questo collegamento con il familiare, con la persona che cura la persona anziana, diciamo sostanzialmente può essere fatta. Tra l'altro su questo, col Ministero della Salute, diversi anni fa è stato fatto proprio un protocollo d'intesa, è stato fatto un progetto spedimentale che ha previsto proprio questo, cioè questa possibilità di allargare la possibilità di localizzazione. E su questo sicuramente, grazie alle associazioni, all'invut che danno, e su questo voglio ricordare che nell'ambito dell'ufficio del commissario esiste poi una consulta per le persone scomparse, di cui fanno parte proprio le associazioni dei familiari e le altre componenti della società civile che partecipano alle attività di ricerca. E questo è importante perché da lì arrivano proprio le proposte che poi possono essere concretizzate, perché arrivano dal territorio, arrivano proprio dal contatto con le famiglie. E quindi è un altro aspetto importante di quel sistema che dicevamo prima che potrebbe essere speso anche in ambito europeo. No, lo senza.